Quest'anno ho voluto dedicare la giornata mondiale del migrante e rifugiato alla pastorale degli svolati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino svolato e profugo assieme ai suoi genitori. Aproximarsi per servire. Aproximarsi per servire. Compartir. Paragresi Siamo fanno con noi Biasi di Mugod A presto, a presto, a presto. A presto, a presto.